Eccoci qua, eccoci qua, carissimi amici, io prima di iniziare devo presentare il mio gruppo, la prima, buonasera, come ti chiami? Giussi, e che cosa fai su TikTok? Vallo, rispondo alle provocazioni, attenzione Giussi, però sempre educatamente, con un piccolo stacchetto, sembra lo stacchetto, presentiamo il mitico mister Babu Schieler. Buonasera, buonasera a tutti, grazie, tutto bene? A te? Tutto bene, buonasera, sicuro? Sicuro? Sicuro tutto bene? Come se è bello, elegante, anche il cavallo, ma mi sembra... E' tutto dedicato a questo canale 607. 607, ma tu lo sai che tu, accomodi Babu, lo sai che tu ti sei vestito come Don Lorenzo, di Mantozza di Bidizza, Bellissimo, grazie. Lo sai chi è? Chi è? E' un attorio. E' spagnolo. Spagnolo? Es, io padre Zorra. Ah, grazie. Un applauso proprio, questo è un grande personaggio. Guarda là, va. Caro Babu Schieler, noi stiamo presentando questo programma, programma, proprio per far divertire la gente a casa. A casa, allora, in collaborazione con TikTok Television. Grazie ai nostri sponsor che ci permette di andare in onda su questa grande piattaforma di TikTok, anche su questa grande TV, che noi ricordiamo che trasmettiamo sempre in interregionale 607. chi ci vuole guardare da YouTube, sempre il logo della televisione RTN, abbiamo il canale diretto su YouTube. E poi andiamo su tutte le piattaforme. Grande Babu Schieler, che ti sei mangiato oggi? Oggi, basta il ciclo. Ti pigliate pochi bicarbonati? E bello pizzi di socco. Ti pigliate il bicarbonato? Si, ma ci pigliate. Sicuro? Ok, sapete pure il bicarbonato. Questa è la cosa più bella, perché dopo il ciclo non c'è un po' stop e ti lo mantieni nella televisione. Ah, io lo manterei per voi. Babu Schieler, veramente che tu hai vissuto in Spagna? Si. Mi vuoi parlare un po' spagnolo? Eh, West. Com'è? West. West. Come mi chiamo? Io mi chiamo Fonsi. Fonsias. Fonsias. Buonios. Buonios. Bacceller. Com'è? Bacceller. A Macerino non ci vado? Bacceller. Non c'è nessuno. Bacceller. Ah, Bacceller. E poi? Varenza. A Barenza. Varenza. Venezia. Valenza. O Varenza? Eh, ho padone. E' banale, mi facevo un onno e mi facevo un bottaiolo. Babu Schieler. Si, dici. In spagnolo, mucciaccia. Eccola qua. Caramba. Olè, alzati. Eccola qua. Ragazzi, io voglio un bellissimo ballo. Grazie. Dammi il microfono. Iniziamo a fare un balletto. Se il maestro è pronto, sottofondo, bel dietro, non ho superato la linea di controllo. Va bene, ci vanno avuti. Controlla, controllo. Controlios. Vai maestro, prepariamo questo balletto. E mi sei, guarda, hai fatto il lente peppino di capri. Buone. E per questo io ti dedico. Si. Champagne. Va bene. Champagne. Champagne tutte e due. L'acqua, no, è meglio la champagne, l'acqua. Eccolo qua. L'acqua. Eccolo qua. Eccolo qua. Fate questo ballo. Per brindare un incontro Ogni te che c'eri di un altro Ricordi c'era sotto un invito Stasera si va a tutti a casa mia Bellissimo questo brano Così cominciava la festa E già ti girava la testa Per me non contavano gli altri Seguivo con lo sguardo solo ti Se vuoi che ti accompagno se vuoi La scusa più banale Per rimanere solo Viventi Grazie Lei parla francese Parliamo un po' in francese Oui 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 Un applauso a Fabuccio Allora io voglio mandare Noi questa puntata Dovremo avere un grande ospite Che è il grande Nello Amato E noi ci associamo Tutto lo staff Di RTN Taccato Napoli E anche la piattaforma di TikTok Di dare condoglianza alla famiglia Che ha avuto la peddita Della zia Del grande Nello Amato Un applauso Un applauso Condoglianza Condoglianza E per questo ho preparato Uno speciale dedicato a Nello Amato Dedicato a voi del pubblico da casa E tutte le piattaforme di questa grande realtà TikTok, Facebook, Youtube Vai regia Nello Amato Omaggio al grande Mario Merola Ci presenta questo brano 1970 Piazzetta Capo Festival di Napoli Scritto dalla votore Peppino Russo Un grande successo Che se la regia è pronta A mandargli il video Live di Nello Amato Che rende omaggio al grande Mario Merola Un brano scritto da Peppino Russo Intitolato Chitarra Russo Un grande successo Festival di Napoli 1970 Nello Amato Ci prepara questo grande live Alla memoria del grande Mario Merola Maestro vai Grazie a tutti 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 Direttore Grazie a tutti 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 eh ma questi stiamo parlando a correnti, ci vuole persone in diretta eh in diretta ci vediamo la prossima volta va bene, quando vuoi? perché io devo venire a casa tua per parlare con tua madre ma va bene ma quasi devono aggiustare i fatti va bene, quando vuoi? pronto? pronto? io ti sento, tu mi senti? cerchiamo di capire, di appare ma scusate, ma che i risultati tengono figli? eh ma scusatemi, lui dice che non è papà eh, lui c'è papà papà c'è? ma... eh non lo so ci si dite l'Alfonso ma passiamo con me questo talento va bene, lui mi piace, lui si triega con te signora Alfonso dammi una banana mamma mamma questa banana una banana Alfonso ma questo ti ha detto che si mangia il plasmo una mattina? lui si mangia molto plasmo eh e io al mio bambino che gli do? c'è dei buccaci ma grande perché si mangia il plasmo scusami ma questo è rispettoso secondo lei? no, no, io scherzo perché sono ironico eh ma Papuscino no, no, è rispettoso da parte del signor Papuscino hai tre anni il mio padre mezzo il padre mezzo il padre scusami ma perché ci ci mangia un figlio di mezzo ma io ci mangia il latte la Eppna io non lo so ma noi ci siamo incontrati a Bitonto non te l'ha detto a Bitonto a lei è sicuro che sta a Bitonto? sono sicurissima sono a 5 mesi all'ecografia che è tale e quale a lui è fatta è a faccia di vedere che è babbuciglina dalla panza eh comunque com'è? si è sombile al grillo parlante è tale e quale isne è te è te è te è te la papua allora c'ha le lenti e c'ha gli occhi color castagna ma questo è uno scherzo come ho traduzione l'elena ma pronto? è caduto? è caduto? no io ti sento, la sento bene signor Alfonso ha gli occhi castagna io la settimana prossima vi porto le prove a vicino a prossima volta a vicino con piacere signor Alfonso se lui è papà ci vuole un dna come? il dna? eh, dilli che lo facciamo, non ci sono problemi signor Alfonso lei mi deve dare la sua parola il dna mi sente? il dna lo facciamo perché tra tre mesi nasce e glielo faccio vedere è uguale a lui e secondo me fa proprio un battese eh, bravo comunque ho fatto un paro un regalo un regalo? un regalo faccio poi c'è figlio a te eh se non te fichi non faccio niente che c'è regalo? ho bevi già o mi vengono? ho sentito un motore d'un cuore vabbè signor poi ci incontriamo da vicino parliamo a me adesso è un po' da fare il direttore si sta ingazzando va bene signor Alfonso scusatemi io la lascio e la saluto con un grande piacere da Bari che lo mi porto sulle guai dalla casa mia? eh, lo so lo so ma poi scusate ma chi saluta a me? scusa ma chi devo salutare? chi devo salutare? un animale? eh basta eh bella ma ci sei? eh che è? c'è lui qua bella l'animale l'animale te lo giuro che ti strappo quegli altri due peli che c'è in testa dove? che li strappo scusa non ti faccio usare più il pettine ma che stai dicendo? eh e non ti cazzare troppo se no ti si appanna di vetri no non gridare scusa che cosa è successo qua? è un micro no ho tritato un micro scusa si stanno appannando i vetri non lo fa rincazzare una donna come? è un bottomente sei un combattimento sei un combattimento sei un combattimento è proprio una guerra che combattimento vabbè signorina signora signora perché lei diventerà signora perché se va a uscire il papà del bambino mi prometto io sono capace di chiamare a Savasana per farci sposare che guaio lei non può capire che casino è casa mia vabbè adesso mi devo lasciare eh chiudiamo ti voglio bene buona giornata buona giornata salve salve che mi combinate a me che mi combinate ma com'è vuoi finire i figli o no vabbè ma ci fai la vuoi finire a mente che ti nasse donna ma ci fai ingiovato questa puntina e da se mezzelli se mi sa fa pruga a patinare se mi sa fa pruga a patinare non ha ingiovato non ha ingiovato questa puntina non lo so quando io vi riesci a impazzare in da mazzarella in da mannaggia la cavarella mi sa fette biscottate e babbucini allora è arrivato il momento di presentarvi colui che affiancherà ogni cerimonia grazie sempre alla nostra agenzia AS Music TV che vi offre dei grandi servizi Babu Scilla anche fa parte di questa agenzia e prossimamente uscirà anche in un spot pubblicitario dove il 8 dicembre il ristorante la lanterna si pranzo pranzo spettacolo otta ammaculata giusto? otta ammaculata bello non so e otto vedi tu combattas buona con la signora perché è proprio ammaculata fa ammaronne capito? ah è usso se no apri che se c'è un tosico coppa mamma mia l'antena non c'è mai non c'è mai e l'agenzia ASS TV Music grande organizzazione che mandiamo un bacio è arrivato il momento di presentarvi colui che poi è la storia di Tik Tok signori Sasa Buonavita Eccolo qua un applauso auguri buonavigli auguri auguri grande auguri grande auguri auguri che stasera non diciamo l'età e sto compriando 2 volte 20 ah si è ancora piccolino allora se la regia mi abbia preparato la regia il brano facciamo cucù te 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 cucù che mi ha fatto un fritto quella che la guaglione chissà mi fa solo guaglione e non mi diceva spesso però a bitunio allora si è pronta la regia cucù terliz bitunio te te sa sa cucù te te un attimo un attimo un attimo la bella della diretta questa è la città di Puglice come è bella come è bella la canzone di Babushin e Bonavig chi leggi ce l'ha ce l'ha maestro Franco Maestro o ce l'ha la regia io penso che ce l'ha Franco di Puglice qui una fate dire una 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 sulla pennetta sulla pennetta te l'ha messo sulla pennetta c'è la brano questo è un brano cara Giussi ma tu stai facendo un numero questo è un brano Grazie a tutti 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 Allora sto facendo questa promozione della camomilla perché io ero in un periodo che beca tutto quanto a girare, allora ho tolto i fantasmi e ora sto prendendo la camomilla perché stanno tutto quanto a girare, sono fatto il virus, stanno bevendo il vino russo per quanto riguarda il tampone, tutto quanto si vanno a tamponare, io sto buttando la camomilla per te rilassare, ti ha rilassato, non pensare, se no la testa se ne può andare. Ma scusate chi va mannato? Sono venuto solo io. Non lo sapete cosa ho trovato? Non lo sapete perché ho saputo, io giro tanto a congestionare, giro tanto a posto. Ma questo è un bar all'interno di una struttura. Paraggio di giudo fuori si chiama Borzacchelli. Sì, ma noi andavamo in macchina. Teniamo pure un bar, ma che non abbiamo a fare camomilla? A fare dei miei disordi. I soldi non li teniamo. Ma però tenete un'umiltà, visto che siete persone che facete il bar. A camomilla non c'è serve. Facete una camomilla proprio a camomilla, ho saputo. Non c'è serve. Ma guarda quanta camomilla hai che cagò. Allora, non c'è vicino a me Massimi. Se cagni prodotti, cagni articoli, io lo voglio acquistare. Ma ho portato la camomilla per farti cammata. Quanto ti aggierà la camomilla? Ma se è per te perché mi sei simpatica, ti rica la verità. Ti hanno dato la macchina infinita che mi fanno pazzire. Io ti regalo, compagno mio. No, ma vieni qua, vieni qua. Non puoi essere niente regalato. Non puoi essere niente regalato. Non puoi andare a te. E mi fai l'asso pure a me. E mi fai chi? E una volta che ho detto che mi vuoi regalare, mi ti regalai una cosa a te. A te la macchina. E tagna la panna. E batte la lavata. Grazie Vita. Ma senza niente. Lo voglio bene. Va, 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 va. Ma vieni qua, non vuoi la macchina con qualcuno. Mannaggia, cattarella, mannaggia. Ma vieni qua, non vieni qua. Che combinate qua? Figliacchista, non ci troviamo qua. Bazzacchella, giugna. Bazzacchelli. Eh, Bazzacchelli. Sono trenta anni che sbagli sempre questo figlio. Ma amici sono Muzzarello e Bazzacchelli. Bazzacchelli! Bazzacchelli! E la nostra trova giugna. Oh, stai giugna in campagna. Prima pure il frate nostro. Stai giugna in così. Guardi che stai combinando. Bazzacchelli! Fai a ruggiare! Stai guardando la pagina qui, Fai a me la chi, Chi sei pa... Eh, 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 eh. Ma lavoro in meno! Gli ha passato a me! Eh, 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 eh. Gli ha passato a me! Ma... Combinate? Che hai combinato? Eh, niente, sai che la caballuta? Cosa? E' un po' di più servizio. E' un po' di più servizio per camminare. Perché guardi, c'è la verità. Parice e loro dicono che si vanno a cattare con l'acqua. E ti guardi, guarda con l'acqua. Guardi a chi si è sceso pazzo. E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più servizio a Pompigliano. Guardi, non potete mai sbagliare. La roba con me stanno tutto qua. Venite a casa, sei gommoli da cagnare. Ma come è che sei una moto che mi fanno andato a tutta la roba con poco curda? Guardi, guardi, si tutto qua con poco curda. Così! E' un po' di più, così, eh! Ma roba! Ma roba! Ma roba! Ma roba! Ma roba! Ma roba! Venite a casa, assaguro con il maio nostro, sai che ci protegge, madre P. Fai te la vedere! Quindi non ti puoi mai sbagliare. Vedendo quella bellissima statua, vieni qua! Ah, ma roba! Vieni qua! E' un po' di più! E' un po' di più, non lo so! Poi! Ti capi? Ma roba! 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 Non lo so! 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 Ma roba! Ma roba! Ma roba! Ma roba! Via Romani! Massa guadagni! Ok? Non esitare! Guarda questo! Questo non è facile da provare! Non è facile! Non è facile! Non è facile! Ma che sei capinato? Guarda via Romani! Massa guadagni! Tutto fai 15 giorni! E ti devi sbagliare! No! Chi si percepisci qua! Perché io non ho capito, un とizio così attrazzato! E io vi auguro a tutti di venire qua! Perché veramente ci sono stati tutti e più Disposizione! Unità! Dignità! Disfonibilità! è ricoperta non ne può mai trovare guardate questo luogo è una garanzia e questo è tutto qui che ci ha girato tutta la periferia ho visto mio papà margellino e mamma prende un servizio e ho vinto questa bella città bellissima guadio che se... prende un servizio rocco gomme guadio stiamo a pomigliano d'arte non c'avevo niente ad arrivare Massa guadagno, non c'avevo niente Massimì ma che stai pensando? che stai pensato a pulire tutta la casa? niente a posto, sto pensando se sarò da qua la posso metterla sotto la panta per fare cose diverse che è più grande la panta? che è più grande la panta? come la metto sotto la panta? la posso metterla sotto la panta per fare cose diverse posso fattere la panta ai miei che non mi è roto, vado a farmi vieni a durare qui, ne trovo pure Massimì la panta è qui e te che mi fanno i miei sono rimasto a prendere la panta ma c'ho avuto smontato sotto che fai tu? io non mi tolgo le scassi non mi tolgo le scassi, ti chiedo io ti devo meridio un altro subito mi fai un rettivo ma che è un rettivo? te la brutta figura ma sicuro che ce la fai? ce la fai ma il montenatore ma te lo fai un'officina? che te? te la cazzo d'officina, coppia piotto ma che fai una panta? tu riccio? ehi, vanno qua vanno a farla brutta figura vanno a farla brutta figura andiamoci, 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 mamma mia che vuoi dire, eh vistuno la promozione, capito, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, ecco, chi sono commesso, ma quello commesso il te, te ne hai visto un lattino e te ne hai tutto vado, te ne hai visto un minuto capoletto sotto lì e tutto vado, ma ne capisci che sei arrestato volete vivare, ma tu mi mi arrivo a te avremmari, qui ne la vieno per la monta, che se non tu filmi qua, la macchina ti ha rotto ma, chi sono così i pazzi, chi sono veri i pazzi, dai veniti a te me ne hai visto un, eh, la mia moglie, come se può fare, come sei da a fare, sì lei, oh, madonna mia che succede, che succede, che succede, che succede, che succede, diventa una cosa è il microfono è il microfono ma non di fare non anima è una biglione ma non mi piace e non mi piace il giardino che non sape ma non è nello ma non si è ma non si è ma non si è ma non si è e non si è un microfono che divisi quando è il vino è una divisa che era lì e sono massimi sono con me e sono sempre vicini ma ma noi siamo affermati ma ti ricordo quando ti ero uscito in 28 da accantare il sconato ma tu hai capito che non mi hai mai sentito una ragazza io voglio mettere il centro beh no che combinare allora allora il momento più bello della trasmissione è arrivato in momento più bello della trasmissione perché siamo quasi per finirla la trasmissione finirà questa prima puntata ufficiale che abbiamo poi ci sarà ogni giovedì sempre alle 21 e 30 su RTN Napoli 607 ricordiamo sempre Babushi poi andiamo su tutte le piattaforme web anche con TikTok poi abbiamo la diretta su Youtube stasera, attenzione andiamo anche in diretta su Youtube sempre RTN da Gato Napoli dove ci guardano un po' tutto il mondo questa è la cosa più bella io ti ricordo un film il professore di Vesuviano Juan Borrisso ti piace? quanti volte te l'hai visto? una ricina di volta una ricina di volta ma ogni tanto tra questa musica sotto io non lo so dove viviamo noi mi sembra che questo mi devo lasciar dirlo allora io ricordo un film che uscì nel 1982 Juan Borrisso e stamattina mi ha chiamato proprio il professore Vesuviano ha detto che lui vuole venire qua vuole venire qua per conoscerti va bene ma ti fattolo non lo so ma per gli stai responsabilità cosa? sei un motivo eh? e confesso è sempre l'oraio che fa la buscina e altre cose che non sembra di perdere subito prima che vanno a stile e volerà se no e vieni a me faccio scavare e pensi a passare se lasciamo a più sono salati e guardate quanto la risulta nostra la visione signora eh? c'è una bambucina c'è una bambucina e gratinità bambucina è una bambucina salano per ascoltare un uomo lì ma si non vengono da c'è lì la prossima lì è una bambucina è una bambucina è una bambucina e qua c'è una bambucina è una bambucina è bella è una bambucina è una bambucina è una bambucina un giorno quel castello deve essere lì un giorno il castello deve essere lì allora è arrivato il momento chiamiamo ancora Sasa Buonavito con il questa coppia che sta andando bene ci fanno ascoltare il secondo brano che si chiama Lap Dance come si chiama? Pap Dance come si chiama? Lap Dance Lap Dance facciamo perché poi c'è un'altra sorpresa se la regia è pronta per mandare questo brano la Lap Dance che si chiama 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 non che si chiama Ce che la mia? Il gioco da lei. Poi qui viene? Poi qui qui accédo. Poi qui accédo? Alla Alla Alla... Poi ma la la... Poi? Oh! Poi! Poi! Pompassi, pompassi, pampassi. E, pompassi, pompassi, pampassi. E, pampassi, pampassi. Pompassi, pampassi, 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 pampassi. Pallà, giù? Un noi no si no? Un, due, tre, four. Contanni, benissimo. horizontal, horizontal, horizontal. ok, ok 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 Joyce Stop, stop, stop si è bloccato ok un applauso a Pabuccio è un grande Pabuccio lo sai questo brano si è fotte è fotte è fotte è nata proprio la pabuccio lo titolo quale è preciso è l'esbedesia e com'è questo è stato inventato la tic tocs è chiaro che stiamo in diretta è l'esbedesia all'autore no questo è il nonno di zorra la massa di affonso di matrissa dice dice però sta fatta con lui completa affonso no deve dire lui affonso di matrissa l'autrizza matrissa affonso di matrissa no che abbiamo qua che abbiamo vabbè allora facciamo una cosa si è bloccato presentiamo questo presentiamo un altro piccolo sketch veloce veloce non mi fa uscire sempre il nostro massimo fantasimino il nostro mitolo mistero si è abbonato non ho ni pavuccio ma io non sapete chi vengono le troie buah vino daniela vino daniela allora ciò innanzitutto l'inchino professore vi voglio ringraziare a tutte le persone che mi hanno invitate buah vino daniela vino daniela mamma beee vino daniela vino daniela venga chiamato venga chiamato venga chiamato ma lì ci chiamato ma lì si usate si usate ma lì che è successo ma lì ma perché mi fai sempre questi scherzi ma lì ma perché mi fai sempre questi scherzi con me facciamo la sera di tre, ragazzi, come sono le parlate o no? Maggiù, voglio fare un saluto a tutti, anche se lui oggi sta allucinati, ma dalla parte nostra compagnia, madonna, ma che se mi spostava che ero, papà nì, di no, 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 Papà adesso Das forte, non appena il saluto a tutti i miei, di no, papà nì, di no, papà la macomma, dimmi cosi, subito un valore la No non è che esmiglia, se la sigla siamo pronto, un re, come lo vienzo... ...io vienzo, vai... Sì, 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 l'accompagnatica vive, ma sempre si è una amica, e da ora se vede guardi l'era, non solo non se vede, ma sempre un turista, e sarà bene la finestra, e capisce come è bello, la città è volo e chanel, come è bello, come è bello, la città è volo e chanel, come è dolce, come è dolce, come è dolce, come è dolce, la città è volo e chanel. Ma rispia a sua mente, all'orgoglio che sta c'entra, si porti in ogni giorno per l'amma che fa dientra, che non c'è una nuova scienza e non c'è una rispetto come vanno a prendere il suono quando è la sera rindo lì, rindo lì, rindo lì, quando è la sera rindo lì, rindo lì, rindo lì, quando è la sera rindo lì, quando è la sera, rindo lì motoporto a marcello qui, sembra che non tiene fretta verso il 5 da mattino, quando traffico per me che è permesso tutto cosa, non per chi ti non dà rita ma perché se sembra fatto, è soltanto per ti spie per ti spie, per ti spie, è soltanto per ti spie per ti spie, per ti spie, è soltanto per ti spie ma ti spiace sulla venta, all'ocoglie che sta accetta se vuoi ti grigli ogni giorno, e lui già metti in me scuola ma nessuno può fare niente, c'è su come caramelle come è dolce come caramelle, agita evolucionale come è bello, come è bello, agita evolucionale come è bello, come è bello, agita evolucionale come è bello, agita evolucionale come è bello, agita evolucionale E io che sono musicante e mi sento fortunato quando sono solo e canto questa bella salata E perché sono ammurato, perché forse sono nata, ma morita come è bella La città è vola Chanel, come è douce, come è bella La città è vola Chanel, come è douce, come è bella La città è vola Chanel Come è douce, come è bella, a città è vola Chanel Come è douce, come è bella, a città è vola Chanel Applausi! Oi, loca, Massimina, o te ne vattacchina, e arrivata, Massimina, Maxi Show, Maxi Show Oi, loca, Massimina, o te ne vattacchina, e arrivata, Massimina, Maxi Show! Mi chiamma, Massimina, e sono napolitana, una città di treni, tra Napoli a Milano E quando vago fuori, non sono come è città, come è bella, i cameri lo ricevono portata cartolina Si guardi, non passa subito, o meglio, per trovare, prima era individuale, ma sono S.P.A. E con un po' di dongo, è autonoma e cammino Dite anche i fantasmini! 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 Dite anche i fantasmini!